Alle 9.30 a Palazzo Chigi, Letta e Alfano, Premier e Vice Premier, presiedono la prima riunione del Comitato per il semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea, che scatterà a luglio dell'anno prossimo. Un appuntamento che era tra gli obiettivi del governo delle larghe intese, ma che oggi sembra lontanissimo. L'intervista di Epifani, che chiede un passo indietro al condannato Berlusconi, porta lo stato dei rapporti tra i due principali azionisti, e la larga maggioranza vicino al punto di rottura. Da Palazzo Chigi rassicurano che le turbulenze sono all'ordine del giorno, che fosse una navigazione difficile si sapeva dall'inizio. Quanto ad Epifani è segretario del partito e parla al suo elettorato, da lui nessuna volontà di mettere in difficoltà lenta il governo. Il fatto è che gran parte della base democratica che già mal digeriva le larghe intese con la condanna definitiva di Berlusconi è ancora più inquieta e domani sera c'è in programma una direzione che se in origine doveva essere un passaggio chiave sulle regole congressuali, ora è diventata decisiva per le nuove regole di ingaggio della larga maggioranza. Enrico Letta ricorderà la situazione straordinaria che ha portato alla nascita del suo governo e che non è cambiata. Insisterà sulla necessità di non rovinare tutto ora che i frutti, e cioè la ripresa, stanno per arrivare, ma che, come ha ripetuto più volte, non resterà a Palazzo Chigi a tutti i costi. Ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità, la frase ricorrente in queste ore. Ma è nel PDL che in questo momento la tensione è alle stelle. La linea della responsabilità e del sostegno al governo, passata tra mille difficoltà, messa a dura prova, visto che i falchi hanno buon gioco nell'accusare l'alleato nemico di voler far saltare tutto, magari per cercarsi altre maggioranze, rifare la legge elettorale e andare al voto, per liberarsi definitivamente del Cavaliere. Vogliono spaccare noi per non spaccarsi loro, dicono le Colombe, mentre i falchi preannunciano l'inizio della campagna elettorale, subito dopo Ferragosto, con Berlusconi ancora in sella, prima dell'inevitabile interdizione e prima che il Senato si pronunci sull'incandidabilità. Il primo round su questo terreno, stasera, nella giunta elezioni di Palazzo Madama, servirà a capire meglio tempi e volontà politica. Intanto, su fronte giustizia, il PDL fa la sua mossa annunciando la mobilitazione per raccogliere le firme sui referendum radicali, che, spiega il coordinatore Verdini, riprendono le battaglie di libertà che abbiamo condotto in tutti questi anni e che, con l'attuale situazione politico-parlamentare, sarebbe difficile condurre in porto.